dal punto di vista clinico è importante ridurre la durata dell'antibiotico terapia per evitare potenziali effetti collaterali questo però deve essere eseguito evitando potenziali complicanze per il nostro paziente è chiaro che il semplice miglioramento clinico non è sufficiente per decidere la durata ottimale della terapia antibiotica d'altra parte studi recenti randomizzati controllati e meta analisi della letteratura hanno chiaramente evidenziato come l'utilizzo della procalcitonina durante l'antibiotico terapia stessa possa essere associato ad una riduzione della durata della terapia antibiotica nello specifico possiamo sospendere la terapia antibiotica in caso di valori di procalcitonina inferiori a 0.25 0 5 in funzione della gravità dell'infezione o con riduzione della procalcitonina stessa rispetto ai valori basali superiore all 80 per cento grazie a tutti